Forza Italia non decide e così Gaetano Amatruda resta regolarmente in campo per quanto ha salito legittimamente da mille dubbi e tante perplessità. Non ha sortito alcun effetto il summit napoletano qui ha partecipato nella serata di ieri il senatore Fasano, summit convocato da Maria Rosaria Rossi per fare il punto in campagna alla vigilia della tornata elettorale. Nessuna indicazione specifica è arrivata dal vertice del partito di Silvio Berlusconi, molte invece le indiscrezioni trapelate. Ad esempio a Napoli il movimento di Salvini, ago della bilancia anche a Salerno, appoggerà il candidato forzista a Lettieri e non l'esponente di Fratelli d'Italia taglia la tela, un segnale in controtendenza rispetto invece a quanto avviene a Roma. Proprio in virtù di questo indizio Enzo Fasano è sempre più orientato a mantenere l'impegno assunto, ovvero a garantire appoggio e sostegno al giovane Gaetano Amatruda, tanto più che dai forzisti storici di Salerno non stanno arrivando in queste ore precisi segnali di impegno. Salerno come Napoli e non come Roma? Probabile. Probabile che anche a Salerno il movimento di Salvini decida allora di appoggiare il candidato di Forza Italia, così come più volte garantito prima che esplodesse il caso romano e non Antonio Iannone di Fratelli d'Italia. I prossimi dieci giorni comunque chiariranno equilibri ed alleanze. Ed attenzione, starebbe per scendere in campo per le prossime amministrative a Salerno anche Marco Falvella con la lista Popolo d'Italia, scelta che spiazzerebbe non poco Roberto Celano che contava sull'appoggio dei militanti della destra salernitana. Così fosse, Falvella sarebbe il settimo candidato del centrodestra ai nastri di partenza delle prossime amministrative, un record senza precedenti. Grazie a tutti.